Buongiorno. Ma che buongiorno e buongiorno? Alla fascia del buongiorno, desidera? Vorrei del latte. Latte? Che latte? Latte per la mia foca. Ah, foca? Sì, e gli fa bene il pelo. Eh beh, certo, ora viva. E piuttosto, quanto crede ce ne voglia? Eh beh, non saprei, ma lei dove le mette? Dentro la maschera a bagno o dentro al bidet? Ma cosa hai capito? Glielo do col biperon. Col biperon? Se mi fai capire come fai, tu regala il latte. Beh, venga a vedere, venga. Come no, io vengo alle corsa. È là, è là. Ah, ma è una foca a foca allora. È certo, cosa v'hai capito? Beh, penso che un par di litri abbassano, eh. Grazie, quanto le devo? Niente, niente. Gli avevo detto, gli regalavo. Va bene, arrivederci. Arrivederci. Buongiorno. Ma non vedi che robba. Questi neanche reagiscono. Io mi farebbe pure le zanziari. Ehi, ghi, 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 ghi Ciao